Il concorso d'Arts in Pintal, giusto? Organizzato molto bene, come concorso, come stage, e poi questa novetà di quest'anno che è piaciuto molto, è il concorso di perfezionamento dei insegnanti. Dopo ho avuto l'occasione di fare tre lezioni con gli insegnanti. Bravissime, perché ognuno si è preparato per questi insegnanti, hanno fatto le domande e, come io dico, questa grazie all'organizzazione. Ciao, io sono Afshin Vargiavandi, sono stato l'insegnante qui a Dancing Time a Fiugi per la sezione, la disciplina dell'hip hop. La situazione mi è sembrata molto interessante, da partire dalla location siamo qua in una delle fonti termali di Fiugi, circondati da un bosco. Trovo che tutto quanto sia stato molto giusto, delle bellissime classi, un livello discreto, ma con un entusiasmo molto particolare, devo dire. Sono felice di essere stato qua a insegnare, e è molto importante che in Italia continuino situazioni così piene della danza, proprio in un momento in cui sembra che di danza non si possa vivere. In realtà quello che vorremmo fare qua, così come in tanti posti, è proprio questo. Grazie. Hi, my name is Jose Della Cruz, I'm from Los Angeles and New York, USA, and this is my first time teaching at Dancing Time in Italy, and it's one of the most beautiful workshops in Italy, I think. All the dancers are really, really wonderful. The location is so beautiful, it's in the mountains, and it's gorgeous, and all the teachers are wonderful, and I would love to come back all the time, and I just, all the dancers work really hard, and the convention, they're really, really hardworking dancers, and it's a beautiful location, and it's so peaceful here, and I would say it's one of the nicest locations I've ever seen, because it's in the mountains, and there's gardens everywhere, and all the dancers work hard, and the teachers are all wonderful, and I would love to come back, and Dancing Time is an amazing workshop. Thank you.